E quindi l'intuizione investigativa anche del PM titolare del procedimento, la mia collega dottoressa Rizzo, è stata quella di, proprio perché gravitava tutto sostanzialmente attorno al pellet, al trasporto di pellet, e siccome questo materiale, anche in attività pregresse, era emerso che era, insomma, si era, vuol dire, un centrato di interesse anche della criminalità organizzata. E quindi, ecco, si è avuto a cura l'intuizione investigativa che questa attività di costituzione di queste società a schermo fosse finalizzata appunto alla commissione di, fosse finalizzata all'evasione e quindi alla commissione dei reati fiscali.